Passeggiate nei borghi campani dalla bassa provincia di Salerno alla Valle Caudina, prima tappa Castelnuovo-Cilento. Daniele Guido Gessa. Un tour che comprende 12 comuni campani dalla bassa provincia di Salerno alla Valle Caudina. Passeggiate fotografiche per cogliere e immortalare scorci e anima dei luoghi, i piccoli paesi che fanno grande il territorio. Fra le prime tappe Castelnuovo-Cilento. È un progetto di sviluppo e promozione dei piccoli centri italiani, dei piccoli comuni italiani, dedicato agli amatori dei borghi e ai fotoamatori, perché grazie alla loro sensibilità, alla loro arte, ci restituiscono uno spaccato dei borghi e delle comunità. Pensiamo che sia lo strumento più giusto per poter emozionare e rappresentare e raccontare i nostri borghi. Le esperienze delle passeggiate nei borghi finiranno poi sul web, in mostre, calendari e cataloghi, un percorso al quale ha preso parte anche la Confederazione Italiana Nel Mondo. Uno di quelle iniziative che tendono ad avvicinare i tantissimi espatriati nei paesi nel mondo alla madrepatria. Questo bacino di 70 milioni di utenti, di emigrati che vivono altrove, ma si sentono fratelli d'Italia e non attendono altro che essere contattati e coinvolti nelle varie iniziative. È importantissimo rinnovare con queste manifestazioni la memoria nel cuore dei nostri cittadini, dei giovani che sono all'estero o che sono in Italia e in altri paesi.